Fa che? Sorry Eh sono un po' stanco si vede un po' come sparo Vabbè se ci fa il chile qua sotto sopra Qualcuno è morto non si sa dove Allora sei stronzo però che è capitato di merda Cazzo spari Cazzo spari Oddio 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 No vabbè ragazzi Gigi Fultima Oddio Fultima Ma è Fultima Ma fultima Fultani dall'esplosione Fultima Eh bello mio Manoglaz Ultimo nemico rimasto Il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona La tua posizione è stata compromessa Gigi Rappitavo What Ragazzi Sax 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 AXA! C'è l'altro! C'ho visto! PORCA PUTTANA! PORCA PUTTANA! FUCK! SAX GUSTO E MEX IN AZIONE RAGAZI! TRIPLA COSÍ! TRIPLA COSÍ PER SAX! E' MADONO! ...d'attacco non ha ancora trovato una bomba! Sei in una zona con un lato di tante dico! Lasciala subito! Ti hanno visto! ...cambio caricatore! 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 ...di scoprirà! Sei in una zona controllata dal nemico! Lasciala subito! ...ultimo attacco che sei rimasto in vita! ...in... se rimani in questa zona la tua posizione è stata compromessa ricarico ultimo attaccante rimasto in vita vittoria alla difesa nemici iniziati attenzione attenzione corri corri Sì l'ultimo nemico rimasto i pensori hanno eliminato tutti i nemici tipo queste giocate qua no sax alle prime armi che si fa drop shot poi si alza bam che veloce eh guys cg guys triple out yeah jagger on your right no 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 why bravo ragazzi che tripla di sax Raga che tripe di Saks E via secondo Easy For Saks Custom X Eh Saks ragazzi è bravetto Pensate che Saks è scarsetto Non sa mirare Non sa Saksaks sa il suo Ah E' così uno è là Il nemico ti scoprirà Se rimani in questa zona Ti hanno scoperto Ti hanno scoperto Ti hanno scoperto What? Oh yes Canale Canale E' un mercatore attivo Proteggetelo a tutti i costi Solo un operatore d'attacco Oh cazzo Yes Cazzo E' un'altra E' un'altra E' un'altra disinnescatore in campo disinnescatore individuato disattivatelo ultimo nemico rimasto si cazzo disinnescatore neutralizzato dagli alleati disinnescatore termet scale di libertà principale scale 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 sotto dietro vado io d se se si è rimasto in vita hanno trovato una bomba un po' dove davanti te davanti te si un po un po' che pensi di giocare guarda che sa che è bravo questo ma come ricarica è ancora appeso su finestra regà accoglie appeso ancora su finestra fuori non lo so chiama chiama dove 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 però chiama non sai se questo è canale perché non sai che era toccato fuori quello fuori non hai visto come ho giocato da colpo un po' che vuole Grazie a tutti.